Spettacolare vittoria di Filippo Fortin nella seconda tappa della Belgrado-Bangialuca. Il capitano del GM Europovini si è infatti imposto in una volata per niente scontata, grazie a un atto di forza che lo ha portato a primeggiare sotto un meteo da treggenda. Secondo posto Vitaly Boots e completa il terzo gradino del podio Alex Surukovic. Per Fortin si tratta del secondo successo stagionale dopo la vittoria conquistata al GP AdriaMobil appena 20 giorni fa. Grazie per la visione! Grazie per la visione!